Salve a tutti, siamo con Maria Sarnataro, che è un vicepresidente ONAF, dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, è la vicepresidente nazionale ed è anche la delegata della provincia di Salerno, vive a Ceraso. Maria è anche dentro l'associazione, è sempre delegata per Salerno, credo, dell'AIS, che sarebbe l'associazione italiana sommelier e quindi si occupa anche di vino, ha anche un ruolo all'interno del parco nazionale rispetto appunto a tutto il tema dei vini per l'associazione. Ecco, detto questo, io credo che sia importante questa nostra conversazione di oggi perché alla luce di un po' di quello che sta emergendo dalla ricerca con gli allevatori, emerge chiaramente la insostenibilità del perseguire la filiera per quanto riguarda il territorio del Casagastra, almeno della filiera Bacca-Vitello, quindi la filiera carne, quindi tutta la parte dell'ingrasso, l'aumento dei prezzi dei fieni, l'aumento dei prezzi dei cereali degli ultimi mesi, sono soltanto la dimostrazione plastica del fatto che se si va su questa strada ci si fa del male perché poi bisogna lavorare con le mucche e le mucche in Cilento hanno difficoltà rispetto anche al pascolo perché i pascoli sono scoscesi, sono molto infestati da piante infestanti, c'è il bosco che avanza e quindi anche coltivare i cereali diventa complesso rispetto ai cinghiali, allora uno mette dei miscugli e poi quando è pronto per raccogliere arrivano i cinghiali e in una notte ti fanno fuori tutto il raccolto. Non ci sono appunto grandi superfici per fare anche foraggi e quindi io ragionerei più, sono fatto quest'idea, questo punto della ricerca che forse per questo territorio conviene puntare su una zootecnia finalizzata alla produzione lattiero-casearia e in particolare su pecore e capre che sono gli animali che storicamente abbiamo fatto dei ragionamenti con Camillo Crocamo, con Luigi Scarpa su questo, sulla storia del Cilento e la zootecnia, per millenni le capre e le pecore sono stati gli animali che sono stati allevati sul territorio, pochissime bovini sempre, solo nel dopoguerra il numero dei bovini è esploso ma per condizioni particolari. Ecco allora quindi detto tutto questo bisogna lavorare sul latte come materia prima eccezionale che viene dal pascolo brado e semibrado soprattutto e bisogna fare dei formaggi che stiano all'altezza della materia prima eccezionale che si ha, questo non vuol dire rinnegare la tradizione cioè il cacio ricotta piuttosto che le tome piuttosto che le caciottine e così via, significa però costruire un'offerta qualificata, variegata, un po' più ampia, ecco per questo io vorrei ragionare con Maria su tutto questo, ecco cominciamo da tanto magari Maria raccontaci cos'è l'ONAF, che tipo di attività svolge e poi entriamo dentro diciamo le tematiche che appunto io ho cercato un po' di definire, prego. Bene, l'ONAF è l'organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio e in effetti il nostro compito in qualche modo è quello proprio di valorizzare i formaggi di un determinato territorio, farli conoscere, farli comunicare da chi li produce, quindi in effetti il nostro percorso formativo si articola sostanzialmente in due momenti, uno è un corso base in cui il compito è proprio quello di far entrare chi partecipa all'interno del mondo formaggio, cioè far conoscere le caratteristiche dei formaggi lavorando sulle DOP nazionali e questo per un produttore locale rappresenta per esempio un momento importante di confronto, entrare proprio nella logica della conoscenza approfondita delle caratteristiche dei formaggi intesi proprio nella loro descrizione analisi sensoriale e quindi è un percorso di conoscenza generale, invece il corso di maestro assaggiatore è un lavoro successivo che prevede quindi il primo step e che è legato alla realizzazione di un panel, cioè praticamente un gruppo di assaggiatori che si perfeziona nella conoscenza, entra nel dettaglio delle problematiche, valuta i formaggi, cosa che non viene fatto nel corso di primo livello, nel corso di primo livello si entra nella vivo del racconto, della conoscenza, mentre nel secondo livello appunto questo di maestro assaggiatore si ha la capacità poi attraverso l'esperienza perché vengono fatti dei percorsi di allenamento a poter valutare i formaggi e infatti come maestri assaggiatori noi poi veniamo coinvolti in diversi concorsi nazionali e anche internazionali perché ci sono state anche diverse esperienze internazionali. Quindi un po' questo è il nostro lavoro, io sono il delegato della provincia di Salerno e ho conosciuto, io sono appassionata sostanzialmente di formaggi, tu prima citavi i vini, in realtà io lavoro con i vini, faccio molta didattica nei corsi ma il formaggio è la mia passione quindi diciamo ho portato avanti in modo parallelo questo percorso proprio perché sono affascinata dalla produzione ma soprattutto dall'animo e quindi la passione che le persone, i piccoli produttori soprattutto, dedicano a questo prodotto e per me è una scoperta continua perché mentre nel mondo del vino si hanno delle linee un po' più standard, ci sono in effetti dei percorsi un po' più di dettaglio che prevedono un'impalcatura più importante. Nel caso del mondo dei formaggi c'è una grande fantasia, c'è la possibilità che ci sia all'estero del singolo casaro che si possa esprimere sempre a volte legato alla tradizione, a volte invece seguendo delle strade che però per avere successo devono portare a un progetto di qualità e l'esperienza che ho fatto io con molti produttori è il fatto che molto spesso non riuscivano a capire se c'era o meno questa qualità e quindi il nostro aiuto nel corso base è stato anche quello di renderli consapevoli, renderli consapevoli che il loro figlio, il formaggio, non sempre aveva tutte le caratteristiche e i valori a posto e quindi una mano in questo senso nell'acquisire consapevolezza e apertura mentale nel rapporto con i formaggi. Ecco io ti ringrazio per questa presentazione, adesso ti volevo chiedere alcune cose, intanto c'è uno dei problemi, io parlando con i ristoratori emerge fortissimo, è quello della tipologia di formaggi che il Cilento produce in generale come Cilento ma in particolare il territorio del Galcasa Casta. I ristoratori mi dicono sempre se io voglio fare questo carrello del formaggio ho dei problemi perché in pratica nel Cilento ci sono quattro tipologie fondamentali di formaggi, sono quattro che sono la mozzarella nella mortella che è anche presidio slow food, ovviamente c'è la mozzarella di bufala perché comunque la Piana del Sele io non la considero Cilento però sta a due passi e poi c'è anche qualche produttore, tanto per non fare i nomi la tenuta Chiri o comunque con le bufele ci lavora. Poi c'è il cacio ricotta che è un altro formaggio importante, non so alcuni dicono che non è neanche forse neanche un formaggio però diciamo comunque c'è, sia fresco che stagionato, ultimamente è molto utilizzato anche nella pizzeria, cioè lo mettono sulle pizze, quindi diciamo è stato anzi rilanciato negli ultimi anni e poi diciamo abbiamo appunto mozzarella mortella, mozzarella di bufala, cacio ricotta e cacio cavallo, cacio cavallo c'è. Ora però manca tutta una serie di formaggi che sono quelli a pasta molle e soprattutto gli spalmabili per esempio che si potrebbero fare con la formaggio di capra, anche con la pecora, tra l'altro i giovani hanno difficoltà diciamo a mangiare il cacio cavallo come aperitivo, mentre invece fare, mettere, siccome gli aperitivi vanno molto e poi soprattutto d'estate penso, ai turisti che vengono, ai formaggi di capra spalmabili su delle tartine, probabilmente un mercato lì c'è. Ecco vorrei che tu ragionassi su questa offerta adesso al di là della coloritura che io ho dato alle cose e che cosa si potrebbe fare ecco da questo punto di vista? Prego. Allora io vorrei riportare qui proprio anche la mia esperienza per quanto riguarda l'altro comparto che tu hai toccato, quello dei ristoratori perché la cosa bella dei nostri corsi è che accanto all'appassionato, accanto magari al casaro arrivano ovviamente anche ristoratori, persone che hanno agriturismo e che quindi in qualche modo il formaggio lo devono conoscere per poterlo raccontare, per poterlo comunicare e già diciamo all'interno diciamo di un gruppo poi la cosa carina è l'interfaccia, è il fatto che alcuni di loro poi diventano fornitori dei ristoratori stessi ma c'è da dire che anche il ristoratore da noi ha la necessità di una formazione importante in questo senso perché prendere il prodotto tradizionale non significa come accennato anche tu prima prendere un prodotto di qualità, cioè non sempre purtroppo è un prodotto di qualità, chi fa qualità la qualità gli viene riconosciuta e riesce anche a vendere bene quindi in qualche modo già bisogna fare un lavoro di base su questi quattro prodotti o cinque o quanti vogliono essere che hai raccontato tu perché l'elemento importante è anche una volta ottenuta la qualità poi saperla raccontare, saperla proporre. Sono d'accordo con te che magari in un piatto sarebbe carino avere l'alternanza di formaggi a pasta molle con formaggi a pasta semi dura o dura ma bisogna innanzitutto chiarirci su un concetto, noi come lo vogliamo utilizzare questo formaggio. La moda ha portato tantissimi dei nostri agriturismi a proporre in antipasto dei formaggi con confetture, mieli e quindi tu vai come prima proposta in qualche modo a interrompere quella che può essere un gradiente del menù, cioè tu fai una proposta di un qualcosa di dolce sul salato che non ti apre, quindi non segue il concetto dell'aperitivo, non ti predispone positivamente al pranzo ed apprezzare le successive portate. In effetti quando il formaggio lo vogliamo usare come aperitivo noi in qualche modo dobbiamo proporre dei formaggi freschi, dei formaggi che non ci chiudano l'appetibilità ma in qualche modo questi formaggi freschi magari con apporti di oli, anche l'abbinamento formaggio fresco, olio extravergine di oliva è un qualcosa che noi ci possiamo vendere tantissimo come territorio perché abbiamo degli oli meravigliosi in abbinamento con questi formaggi freschi che potrebbero costituire un elemento di portata, quindi poi alla fine non avremmo neanche tanto bisogno di introdurre tantissime nuove tipologie di formaggio. Dovremmo essere un po' più ordinati e consapevoli di quelle che sono le nostre materie prime perché il formaggio per esempio più stagionato io lo vedo come piatto vero e proprio di portata oppure come piatto di chiusura, i francesi usano praticamente dare la carta dei formaggi e dei dolci a chiusura pasto nel senso che per loro ha un senso chiudere questo percorso con dei formaggi in alternativa anche a volte i dolci oppure in stretto contatto quindi a quel punto lì ci possiamo giocare anche magari l'abbinamento con delle confetture con dei mieli ma sempre serviti separatamente, cioè io devo essere consapevole di quello che mangio spesso mi trovo nei piatti dei formaggi che non hanno la crosta e io non li riesco a riconoscere questo secondo me non è un modo giusto di servirli, di presentarli quindi è in qualche modo il racconto del prodotto di qualità deve essere valorizzato quindi in realtà questi due mondi devono viaggiare parallelamente poi è chiaro che molti piccoli produttori del Cilento con la mente un po' più aperta stanno facendo le loro sperimentazioni, lo so perché me le fanno provare magari appunto molti con la Petrosa che sta facendo la Robbiola con Latte di Capra e sta realizzando anche dei formaggi a crosta fiorita quindi ma non è la sola, molti sperimentano in questo senso quindi voglio dire sicuramente le opportunità ci sono chiaramente molto più articolate e complesso il discorso degli erborinati che necessita proprio per la tecnologia degli ambienti confinati altrimenti poi il penicillium, la muffa tende ad inquinare le altre produzioni quindi sicuramente lì va fatto un discorso un po' più mirato per chi vuole poi eventualmente raggiungere anche questo ulteriore apporto quindi è chiaro che dobbiamo lavorare affinché questi due mondi vengano ben a contatto e vengano a contatto in modo consapevole e far crescere anche un po' il rapporto tra i produttori Ecco, io adesso poi torniamo perché tu hai emesso diverse cose io sono d'accordo con te che appunto questo rapporto con la ristorazione è fondamentale dico sempre anche parlando con i ristoratori ci sono alcuni, io ho cercato di intervistarli che si sono posti l'obiettivo di comprare anche il 100% delle materie prime che utilizzano nella loro ristorazione, nella loro gastronomia sul territorio del Cilento lo hanno fatto come una scelta etica, come una scelta politica come una scelta aziendale alla fine Alle volte si lamentano perché magari i prezzi non sono poi quelli che sono anche un po' alti però poi fanno anche un ragionamento che in molte di queste materie prime l'incidenza sul singolo piatto poi è relativa si tratta di pochi centesimi quindi poi non è che uno se vuole fare un discorso di qualità e di territorio cioè non è che sono pochi centesimi che ti bloccano da questo punto di vista e quindi questo è un tema che per me è cruciale perché se uno pensasse se la ristorazione fosse consapevole rispetto al suo ruolo dovrebbe capire che ogni anno ci sono milioni di turisti che arrivano sulla costa questi portano soldi sono soldi esterni al Cilento che vengono da Napoli dal nord dal nord Europa sarebbe importante che questi soldi rimanessero sul territorio per rimanere significa che uno invece di usare il burro Galbani e la marmellatina Zueg negli alberghi tanto per non essere chiari perché a me è capitato di andare negli alberghi e la mattina c'ho il burrettino Galbani e la confezioncina Zueg questi sono soldi che vanno fuori costeranno poco questi prodotti? sì, però vanno tutti fuori e non vanno in Cilento dopodiché se i cilentani invece lavorassero cioè per produrre questi prodotti il burro, la marmellata, le composte eccetera e si usassero quei prodotti i cilentani avrebbero più reddito e potrebbero andare al ristorante anche loro, della costa e quindi la stagionalità si allungherebbe perché il fine settimana quantomeno invece di essere in periodi fuori stagione potrebbero andarci i cilentani perché non è che i cilentani non vogliono andare al ristorante attenzione quindi questo per dire allora adesso ti volevo chiedere uno dei temi che tu hai detto hai citato alcuni il tema della stagionatura di alcuni formaggi che potrebbero essere stagionati ecco ora uno dei problemi che ci sono è quello di avere dei locali adatti per fare questa stagionatura c'è chi si sta sul Cervati c'ha le grotte ho sentito oppure a Casaletto Spartano però è un tema che c'è soprattutto per chi sta sui comuni della costa mi viene in mente San Giovanni Appiro dove le temperature in generale ci sono sbalzi tra una stagione e l'altra molto forti e quindi non ci hanno poi dei locali adatti se li mettono nelle loro cantine non è detto che sia il luogo giusto quindi c'è questo tema di trovare anche dei posti dei luoghi adatti per poter fare un po' di stagionature come si deve magari noi per esempio come progetto un ragionamento che stiamo cercando di fare è quello che magari in alcuni comuni ci sono questi palazzi nobiliari baronali di prestigio che i comuni poi alla fine hanno acquisito che sicuramente hanno delle cantine come Dio comanda e che potrebbero essere utilizzati per fare la stagionatura e poi anche le degustazioni per esempio nei periodi estivi dove si può fare anche la vendita dei prodotti aprire avere il vino avere i formaggi insaccati ecco adesso questa è un'ipotesi però ecco volevo che tu riflettessi un po' su questo tema della stagionatura ma in realtà mi aggancio al discorso esperienziale che avevi fatto per quanto riguarda i turisti perché in realtà io sto notando una piccola variazione di tendenza forse legata anche al momento che stiamo vivendo però io ho notato che in realtà sempre di più c'è una ricerca anche del turista che arriva vuole vedere la lavorazione del formaggio ci vuole partecipare vuole portarsi a casa il prodotto e quindi noi dobbiamo soprattutto quindi questa cosa che hai detto che potrebbe essere bellissima anche di utilizzare questi dimore storiche andrebbe in questa direzione perché accanto al turismo esperienziale è legato alla produzione ci sarebbe anche quello artistico-culturale quindi sicuramente va in questa direzione e questa io sono convinta che è l'arma vincente perché noi dobbiamo far arrivare sempre di più persone sul territorio e le persone che arrivano su questo territorio devono portarsi via il nostro prodotto noi non siamo in grado di mandare di offrire una produzione costante nei vari punti vendita italiani noi non abbiamo questa capacità noi abbiamo la capacità invece di proporre dei momenti unici su questo territorio legati a tutta una serie di fattori non solo ambientali ma anche produttivi e io ho visto che la sensibilità sta crescendo abbiamo fatto diverse esperienze che vanno in questo senso sul territorio e dobbiamo prendere coscienza di queste cose e organizzare noi direttamente dei tour e non subirli dall'agenzia TOT che arriva fa un lavoro di rapina e va via dobbiamo essere noi in grado di imporre i nostri tempi che sono tempi lenti cioè ci lento appunto noi non abbiamo con noi non si combina il turismo scusate se faccio questo paragone non voglio offendere i giapponesi ma è un modo di dire il turismo veloce quello che vuole vedere tantissime cose tutte insieme e soprattutto fotografare diciamo ecco fotografare diciamo ogni momento per poi poterlo rivedere e ricordare noi dobbiamo rendere disponibile la possibilità di viverlo questo momento con i tempi giusti che sono i tempi di questo territorio e allora perché non può essere un'opportunità questo lavoro qui io io tra le altre tu hai fatto questo discorso sul turismo esperienziale io personalmente nel 2003 ho fatto un corso alla fondazione Alario finanziato dal Casacasta sulle guide di esperienza con tutta una serie di giovani alcuni dei quali poi hanno continuato e hanno fatto anche delle cose interessanti io sono d'accordo con te e penso che vorrei che gli allevatori riflettessero su questo piccolo piccola cosa cioè loro per fare cento per vendere cento euro di formaggio devono fare una certa fatica una grossa fatica in molti casi ecco allora l'alternativa sarebbe quello che dici tu per esempio che uno viene cioè si organizza una situazione di esperienza di visita all'azienda di visita agli animali a tutto quello che è appunto l'attività aziendale il caseificio vedere come si fa il formaggio eccetera si fa queste persone possono pagare un biglietto diciamo mettiamo che una persona gli fai anche l'assaggio dei formaggi tutto quanto dieci euro dieci persone cento euro due ore di tempo e hai guadagnato cento euro per vendere cento euro di formaggi ci vuole molto più tempo quindi vorrei che gli allevatori su questa cosa riflettessero perché questa è una strada che può essere perseguita e che può produrre reddito cioè non è stiamo parlando di reddito che è importante per tutti in particolare per gli allevatori ecco quindi insomma è chiaro che bisogna formarsi un po' bisogna saper raccontare quello che si fa cioè bisogna cioè bisogna fare un percorso ecco non è che si va in automatico però tutto si può fare nella vita insomma ecco la possibilità di creare un legame crea apertura mentale io ti vorrei raccontare proprio la mia esperienza con il concorso del provolone del monaco perché come ONAF noi seguiamo dal 2007 cioè praticamente da quando è stato istituito il consorzio il concorso di questi provoloni di questa DOP che è una DOP della penisola sorrentina ma che coinvolge 13 comuni che devono lottare quotidianamente tra quello che è il turismo la pressione turistica e la difesa del territorio per l'allevamento cioè si stava correndo il rischio che praticamente la pressione turistica facesse sparire questi piccoli allevatori e quindi la DOP se non altro ha avuto questa importante funzione poi come da noi questi allevatori erano isolati cioè pensiamo alle montagne di Vica e Quenze non pensiamo alla costa pensiamo ad Agerola pensiamo insomma quindi a monti mondi molto abbarbicati diciamo in in subversanti scoscesi eccetera e quindi in qualche modo il nostro lavoro qual è stato cioè quello di noi ogni volta che facciamo un concorso come ONAF soprattutto in realtà come queste dove non ci sono un numero elevatissimo di formaggi che partecipano al concorso noi realizziamo sempre una scheda di descrizione qualitativa cioè noi descriviamo tutte le caratteristiche del formaggio qualitative e poi ritorna questa scheda al produttore quindi il momento più importante è stato poi l'incontro che io insomma ho fatto io ma come ONAF diciamo ho fatto con i produttori e in effetti dal 2007 ho visto un cambiamento veramente importante all'inizio per esempio ognuno di loro aveva delle forme differenti mentre la istituzione della DOP andava nella direzione di uniformare queste forme loro hanno avuto il pregio diciamo come consorzio di non imporlo ma di farci arrivare con la coscienza i produttori è stata una loro scelta poi e ancora praticamente un altro elemento importante è stato che queste persone prima all'inizio non si parlavano tra di loro pensate la gerolese che in qualche modo non vedeva di buon occhio quello di quello di sorrento quindi anche lì c'erano le diverse fazioni tra virgolette c'è il diverso modo di vedere il diverso pensiero però la cosa bella che alcuni di questi personaggi che sono che ancora io ricordo veramente con grande affetto questi produttori anziani diciamo del provolone la cosa bella che hanno partecipato hanno dato il lano hanno detto ok io vi porto il mio formaggio ragioniamoci ragioniamo sui difetti si sono messi in gioco si sono messi in gioco questa è una cosa veramente bella è stata perché questo ha dato coraggio agli altri che non sono restati sulle loro posizioni ma hanno chiesto allora quando tu hai questo problema come fai allora se praticamente io ho questa situazione tu come ti comporti cioè c'è stato uno scambio uno scambio di idee uno scambio anche di in qualche modo emozioni perché poi all'inizio portavano i formaggi difettati per ragionarci su eccetera poi ha iniziato a portare il top della serie allora la famosa goccia il provolone che tu api esce la goccia allora c'è stata tutta una discussione sulla goccia sì goccia no e quindi cioè voglio dire per me è stato un arricchimento un arricchimento proprio come persona come degustatore di formaggi incredibile e credo che questi momenti debbano essere vissuti quanto più possibile perché nel momento in cui si riesce a superare la prima fase la soglia di diffidenza poi diventa veramente un intreccio di rapporto un intreccio soprattutto simile a creare una fiducia è un rapporto che va al di là di quello che può essere un rapporto formale quindi secondo me ecco perché poi si riescono insieme a prendere questo è certamente una buona pratica un buon modello che potrebbe essere come dire anche si potrebbe provare appunto a fare un percorso per fare per fare sì che una logica adesso lì c'è un consorzio e quindi poi lì c'è un consorzio quindi c'è un progetto diciamo ma ci hanno creduto molto questo ci hanno lasciato assolutamente liberi e quindi che cosa è successo che praticamente ogni anno lì c'è per esempio una cosa simpatica che al di là dei premi per categoria perché ci sono tre categorie i formaggi da 6 a 8 mesi 8-12 mesi e maggiori 12 mesi ma la categoria che dà maggiore stagionatura quello maggiore di solo 12 mesi come premio ha il fatto di avere in gestione per un anno un un trofeo no e questo trofeo che poi è un'opera artistica chi vince ha la possibilità di tenerlo esposto un anno nella propria struttura che è una cosa incredibile perché alla fine per loro è un grande atto di orgoglio e quindi questo atto di orgoglio poi si traduce anche in una sana competitività perché in effetti loro a loro modo ci tengono no a portare il formaggio anche perché anche perché come tu sai bene no in realtà la maggioranza degli allevatori credo che sia la stessa cosa per quanto riguarda il territorio di cui parlavi tu nel Cilento la maggioranza degli allevatori in realtà fa l'allevatore per passione per educazione familiare per un amore per gli animali che alleva e quindi questi tasti che tu dicevi cioè l'emozione l'orgoglio sono delle motivazioni importanti per le persone cioè nel senso che al di là del reddito che è chiaramente importante no la logica di fare un prodotto che anche gli altri riconoscono essere un buon prodotto no perché poi sappiamo che il cinetano è portato sempre a dire che il suo prodotto è migliore di tutto di tutto quello che si fa nel resto del mondo però ecco lo dice lui o lei no ecco e invece qui è un tema appunto collettivo no dove poi alla fine questo riconoscimento cioè questo dicevi te del premio che uno ha e poi un'altra per completare no la cosa ti volevo dire che poi che cosa succede che nel momento in cui finisci il concorso loro fanno un gala che sarebbe un momento diciamo di incontro fanno sempre assaggiare i formaggi dei vincitori che è una cosa secondo me molto molto interessante perché quello è anche un altro momento di confronto importante perché poi il vincitore viene riconosciuto anche da loro cioè nel senso c'è questa riflessione su ok è vero questo formaggio ha vinto ma è particolarmente interessante quindi questo è un altro elemento aggiunto e quello che dovrebbe poi questo stimola dei processi imitativi no perché sappiamo tutti che chi è bravo chi è il leader poi gli altri lo guardano e cercano di arrivare al suo livello quindi questo innesca quel processo di miglioramento qualitativo che è necessario è fondamentale poi perché bisogna sempre cercare di fare qualcosa al meglio diciamo quindi questo è assolutamente la cosa bella è che bisogna essere innanzitutto molto seri nell'affrontare diciamo questi percorsi perché giustamente sono dei percorsi minati cioè come si può acquisire la fiducia la si può perdere e quindi bisogna essere veramente rigorosi da questo punto di vista e per fortuna diciamo noi come associazione lo siamo nel senso che anche i nostri panel cioè le persone che partecipano a questa valutazione sono tutte persone che hanno si sono allenate che hanno fatto un percorso quindi non è il semplice appassionato che per un motivo qualsiasi viene coinvolto o un giornalista che viene coinvolto nel concorso no tutte le persone che partecipano al nostro concorso hanno fatto un allenamento sui formaggi mirato anche su quella particolare tipologia e questo per noi è una garanzia per non fare poi ovviamente per mantenere questo rapporto di fiducia e poi in effetti è importante per esempio nel Cirendo sarebbe importante raccontare che cosa è successo raccontare le problematiche fare delle degustazioni alla cieca dei loro prodotti cioè non digli questo è il tuo prodotto ma voglielo assaggiare diciamo come fetta in modo non riconoscibile e fare delle riflessioni su questo perché l'ho fatto quindi a volte è venuto fuori poi che quel formaggio è stato diciamo è stato riconosciuto il problema quindi per questo dico nel momento in cui uno fa una formazione che dà apertura mentale chiaramente si va si supera il problema è figlio mio cioè quel prodotto è figlio mio si supera questo momento e si riesce ad accettare cioè che c'è una problematica e si ha la voglia di superare questa problematica questo è sicuramente vero e quindi io andrei veramente al di là dei luoghi comuni che spesso affossano questa visione cilentana perché ci sono tante persone sensibili tanti ragazzi giovani che vogliano investire su se stessi che amano per un loro know-how per il percorso di vita che hanno fatto il mondo dei formaggi hanno bisogno sì probabilmente di una spinta e questo sicuramente no io io ti ringrazio perché penso appunto che all'interno di questo progetto poi ovviamente come tutti i progetti hanno i loro limiti abbiamo i nostri limiti nel senso che dobbiamo fare alcune cose come è previsto dal progetto anche se ovviamente facendo il progetto uno si rende conto che poi bisognerebbe fare anche tante altre cose no ecco quindi magari da questo progetto può nascere un altro progetto soprattutto possiamo cercare di sensibilizzare uno le istituzioni rispetto alle tematiche e alle problematiche che vivono gli allevatori oggi e quindi vedere se le istituzioni sono in grado poi di mettere in campo un po' di servizi un po' di attività l'attività di formazione per esempio cioè fare per esempio un po' di corsi anche non necessariamente no dei corsi professionali però brevi per casari per dirne una no ecco perché poi la regione Campania è una potenza lattiero-casearia ma sti sti corsi soprattutto penso per esempio animali come al latte di capra o latte di pecora io di corsi mi dicono ma in passato adesso ma in passato ci sono stati ci sono stati però bisognerebbe che ci fossero perché il cilento soprattutto ha bisogno di formazione gli operatori hanno bisogno di formazione di andare di conoscere bene cosa è il latte e come va trattato sto latte perché il latte è un mondo che non si finisce mai di conoscere almeno così mi dice Adolfo Valiante che è uno dei più bravi e lui ti dice il latte non si finisce mai è un mondo che devi scoprire e poi soprattutto va legato all'alimentazione degli animali e quindi infatti Adolfo una volta io ho sentito proprio la macchia mediterranea in suo caciocavallo e in realtà non riuscivo a immaginare se non quando ho visto queste vacche che si arrampicavano su dei versanti incredibili la macchia mediterranea se la mangiavano al di là di tutte quelle che erano le teorie sull'alimentazione del bovino quindi voglio dire sicuramente bisogna tutelare queste persone che con loro lavoro quotidiano sono anche un presidio infatti sicuramente infatti che sono un presidio perché io penso che le istituzioni si dovrebbero rendere conto che questi allevatori al di là della fida pascolo che comunque i comuni concedono eccetera addirittura il sindaco di San Giovanni Appiro l'anno scorso non ha fatto pagare la fida pascolo in considerazione del fatto che c'è stata la pandemia e quindi tutti avevano dei problemi poi anche di vendere i loro prodotti ecco per dire quindi dicevo le istituzioni perché appunto questi allevatori sono degli imprenditori e in Cilento non è che ci sono tutti questi imprenditori questi comunque sono degli imprenditori devono fare un percorso dal discorso famiglia al discorso azienda e quindi vanno accompagnati su questo ma poi fanno presidio del territorio cioè questi vanno in montagna vanno in alta collina zone che nessuno ormai con l'abbandono dell'agricoltura sono diciamo si sono inselvatichite diciamo diciamo così però sono elementi fondamentali poi del paesaggio cilentano che è quello che poi dà un valore aggiunto al fatto che il Cilento è quello che è non è che ed è stato plasmato nel lavoro di generazioni di secoli di presenza umana l'altra cosa e quindi poi è quello che appunto c'è anche un tema di biodiversità legato per esempio sia ovviamente ai pascoli eccetera ma anche agli animali cioè il fatto che ci siano anche delle popolazioni particolari la capra cilentana la pecora faccia rossa la podolica no ecco sono cose importanti da un punto di vista del patrimonio dell'identità culturale di un territorio no ecco quindi qui ci sono tanti elementi per cui le istituzioni dovrebbero capire che questo qui è un momento difficile molto difficile per gli allevatori di transizione il mercato sta cambiando in maniera pazzesca no ci sono questi arrivano le carni arrivano i formaggi da tutto il mondo a prezzi spesso sono molto spesso prodotti di allevamenti di agricoltura intensiva tutte cose che in Cilento non ci sono noi stiamo parlando di un allevamento che è tendenzialmente sostenibile rispetto a quegli altri allevamenti che ci sono in altre parti d'Italia ed Europa e del mondo dove ci sono magari 5.000 mucche dentro un capannone che non vedono un filo d'erba per tutta la loro vita qui stiamo parlando di una cosa completamente diversa insomma di piccoli numeri di un contatto diretto tra il territorio e gli animali i pastori e tutto il resto quindi diciamo questo sicuramente sì ecco io vorrei che chiudessimo questo nostro ragionamento ecco sul fatto che dobbiamo anche trovare forme per appunto di aggregazione e di aggregazione tra soggetti oltre che tra gli allevatori tra soggetti istituzionali associativi proprio per mettere in piedi diciamo anche un progetto di accompagnamento nei prossimi anni e questo può essere un po' l'eredità di questo progetto quando finirà fra un anno quello di aver innescato diciamo una forma di collaborazione tra per esempio l'Onaf le comunità montane il parco sul tema dei formaggi dell'allevamento in maniera tale da mettere in piedi un processo che può portare a quello che dicevi te per esempio del consorzio del provolone del Monaco che è diventato un prodotto qualificatissimo riconosciuto a livello nazionale lì in realtà già esisteva per dovere di cronaca lì già esisteva diciamo una forte identità sul prodotto quindi la cosa che lì hanno fatto è stato poi rendere difendere i piccoli allevatori perché lì il rischio era che la forte identità del prodotto portasse latte da fuori area quindi loro hanno iniziato a vedere questo per questo hanno utilizzato come strumento l'ADOP per bloccare questo meccanismo e valorizzare obbligandola di utilizzare solo il latte di 13 comuni quindi salvando questi piccoli allevatori ma questo si può fare anche in Cilento io vedo una situazione un po' diversa da noi sicuramente l'aggregazione è comunque lo stesso strumento di aggregazione è utilissimo ma probabilmente noi dobbiamo andare proprio nella direzione di questo turismo esperienziale perché è in qualche modo il valore aggiunto di cui noi abbiamo necessità per i prodotti questo fatto di doverli pagare di più perché c'è tanto lavoro dietro è legato la possibilità è legata proprio al fatto di offrire l'esperienza sul territorio quindi piuttosto in realtà diventa necessario attivare dei flussi che vanno nella direzione della valorizzazione supposto di questi prodotti sì sì questo è un accordo però voglio dire rimane il fatto che per esempio appunto se si riuscisse a creare delle forme consortili ma questo vale anche per dirti sui capretti sugli agnelli che hanno dei problemi non gli viene riconosciuta la qualità del fatto che l'allevatore cilentano di capre e di pecore fa in modo che questi agnelli e questi capretti per tutto l'arco della loro vita che sono in grosso modo 90 giorni invece mangiano solo latte della madre e quindi poi alla fine questo è un prodotto eccezionale rispetto ad altri che invece magari un mese e poi dopo mettono il capretto a mangiare cereali o come si dice mangimi e erbe infatti questi capretti così buoni dovrebbero essere valorizzati a quel punto nei ristoranti del territorio come dicevi tu prima anche costruendo magari un marchio di qualità ad hoc una forma appunto di disciplinare una forma diciamo che pubblicamente riconosce quel tipo di qualità la stessa cosa si può fare appunto anche sui formaggi da questo punto di vista perché poi noi per esempio stiamo ragionando sul metodo nobile 70% di erbe e fieni e solo 30% di cereali ma il 99% dei cilentani quelli seri ovviamente questo è quello il metodo che stanno utilizzando quindi alla fine cioè il disciplinare del metodo nobile quasi tutti lo rispettano poi dopo bisognerebbe controllare fare delle verifiche per carità no perché poi c'è sempre qualcuno che tende a tagliare le curve però voglio dire è già qualificato in sé no la produzione si tratta però di fare anche dei passaggi ufficiali formali certo per vincere la diffidenza diciamo a una serie di dare delle garanzie capito dare delle garanzie al consumatore che effettivamente quello è il prodotto è fatto in questo modo ci sono delle regole che vengono rispettate e che che non è che ci vuole tanta fatica per rispettarle perché già come torna a ripete il comportamento degli allevatori anche per necessità perché comprare i fieni comprare i cereali eccetera è molto costoso in Cilento è più costoso che in altre parti d'Italia perché è solo arrivarci con le strade che c'ha quindi le distanze e tutto il resto quindi sì io sono d'accordo con te ecco dobbiamo cercare di provare a creare un po' una specie di coalizione no di soggetti volenterosi interessati che hanno passione per cercare di mettere insieme appunto soggetti associativi allevatori istituzioni su questo tema perché la cosa della consapevolezza è fondamentale che se non si fa niente fra cinque anni ci troveremo con forse un terzo delle aziende che abbiamo in questo momento sul territorio perché non saranno in grado di sopravvivere al mercato diciamo i contributi pubblici sono in fase di calante e quindi il reddito degli allevatori non è garantito manco per niente insomma è come si dice a Roma quindi bisogna darsi una mossa capire che questa è diciamo è un po' una prospettiva dura ma ci sono delle opportunità perché appunto se uno si organizza fa un salto di qualità si lega al teoismo esperienziale cioè si muove insomma in varie direzioni si possono ottenere dei risultati perché il potenziale c'è tutto ci sono gli allevatori ci sono gli animali si tratta di qualificarli di comunque come associazione noi siamo assolutamente a disposizione per questo percorso alla fine sicuramente possiamo mettere a disposizione il nostro know-how ma di fatto già lo facciamo però lo faremo in modo più istituzionale quindi farlo dentro un quadro progettuale che coinvolge anche altri attori quindi non è solo come dire una fissa dell'ONAV ma diventa un obiettivo una strategia che il territorio nel suo complesso insieme con l'ONAV persegue nel tempo e possiamo coinvolgere appunto cioè noi ci abbiamo in questo progetto partner universitari che possiamo costruire progetti che rilanciano diciamo quello che questo progetto sta portando avanti cioè ci si può muovere ecco questo io voglio dire dare una speranza dare un'idea di futuro insomma positivo agli allevatori io ci terrei molto perché li vedo molto appassionati e veramente mi dispiace proprio personalmente a questo punto vedere delle persone che sono appassionate fanno grandi sacrifici e poi hanno tutte queste difficoltà a ottenere dei risultati soprattutto in termini di reddito che voglio dire poi alla fine tutti dobbiamo mangiare tutti dobbiamo vivere quindi non è che possiamo dire che sono problemi di secondo livello rispetto alla qualità dei prodotti rispetto al benessere degli animali eccetera ma il benessere anche delle persone che poi sono artefici di tutto questo quindi non so io ti ringrazio molto e poi dopo ovviamente cercheremo di trovare i modi per mettere in piedi diciamo una strategia insieme ti ringrazio benissimo grazie grazie allora aspetta che chiudo